salve a tutti siete all'ascolto di insider dentro la tecnologia un podcast di digital people e io sono il vostro host davide fasoli nella prima puntata dell'edizione estiva vi proponiamo un estratto inedito della puntata che abbiamo realizzato a maggio con l'agenzia spaziale europea a bernardo patti capo del programma europeo di esplorazione umana e robotica dell'esa avevamo chiesto dopo aver parlato così concretamente di esplorazione spaziale mi sorge una domanda che riguarda la sensibilità dei cittadini quando si parla appunto di di esplorazione avendo una collettività più sensibile a questi temi che investe quindi di più nello spazio di quello che viene fatto ora avremo automaticamente un più rapido sviluppo o comunque ci sono dei limiti che diciamo i soldi non possono superare questo qua è un altro dibattito meno filosofico ma più terra terra che diciamo il nostro pane quotidiano chiaramente noi amiamo talmente il nostro lavoro e siamo talmente convinti che l'esplorazione spaziale sia un grandissimo beneficio per l'umanità che spendiamo molto il nostro tempo a convincere i nostri decision maker per darci il funding che noi crediamo necessario per ottenere gli obiettivi che vogliamo ottenere adesso facciamo una piccola proporzione noi spendiamo 10 per cento degli americani e chiaramente abbiamo può darsi il rapporto spesa è una 10 ma magari il rapporto risultati magari è una 5 ecco mettiamolo così comunque loro sono senior partners e noi siamo junior partners e questo qui diciamo è un'equazione alla quale non si può scappare perché pagando 10 per cento non si può pretendere di essere vicino neanche al 50 per cento sarebbe sarebbe presuntuoso per i nostri amici americani quindi le ambizioni dell'europa se noi vogliamo crescere e essere più ambiziosi più autonomi rispetto agli americani chiaramente bisogna esporsi di più finanziariamente e chiaramente sviluppare capacità che oggi non abbiamo nel trasporto nel supporto di di vita nella comunicazione eccetera eccetera l'europa ha fatto passi da giganti negli ultimi venti anni dall'inizio della iss in cui l'europa era il numero 4 come partner dopo gli stati uniti la russia e il giappone eravamo noi oggi siamo il numero 2 quindi chiamiamoci the best of the rest ma non basta noi chiaramente pensiamo che l'europa sia una comunità importante come quello degli stati uniti e che un programma europeo spaziale si debba sviluppare in modo da essere compatibile e coerente con le ambizioni della nostra comunità adesso cosa succede se domani ci moltiplicano per 5 il nostro budget non succede molto mi spiego una cosa per i soldi un'altra cosa essere capaci di spenderli bisogna crescere la nostra base industriale e la nostra capacità produttiva in un modo sostenibile e questo qui non può essere una funzione a scalino che dare più fondi dal giorno all'indomano immediatamente genera una capacità immediata quindi la politica dell'esa e la politica degli stati europei e di chiaramente davvero una crescita sostenibile e costante quindi se siamo tutti proponendo nuovi programmi e chiaramente aumenti distanziamenti ma in un modo sostenibile perché chiaramente triplicare gli stanziamenti dal giorno all'indomani non è una cosa che aiuta immediatamente e quindi ci sono questi profili di crescita questo è un po' lo stato delle cose chiaramente si può crescere a 2 per cento all'anno si può crescere a 20 per cento all'anno si può crescere a 30 per cento all'anno questi qua sono tutte cresce sostenibile crescere a 150 per cento all'anno non è è molto più difficile è lì che il problema esiste quindi noi siamo supportiamo la l'approccio di una spesa sostenibile una crescita sostenibile che eventualmente darà i benefici che tutti vogliamo avere e così si conclude questa puntata di insider dentro la tecnologia io ringrazio come sempre la redazione e in special modo matteo gallo e luca martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione chiocciola dentro la tecnologia punto it seguiteci su instagram a chiocciola dentro la tecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità noi ci sentiamo la settimana prossima